Grazie Presidente, in chiusura quindi brevemente proprio rubo due minuti così che ci accingiamo insomma alla votazione finalmente di questa delibera. Allora innanzitutto volevo tranquillizzare l'opposizione che gli unici due subemendamenti che hanno visto anche applicazione. Premesso questo voglio ringraziare comunque tutta l'opposizione che ha lavorato assieme a noi durante le commissioni al fine di centrare appunto i punti essenziali per superare le criticità dei punti verde infanzia. Non ultima naturalmente anche la commissione patrimonio presieduta dal collega Ardu che ci ha aiutato anche in commissione patrimonio diciamo a poi passare le carte al dipartimento competente quindi alla commissione ambiente. Anche con questa commissione abbiamo cercato di individuare quali erano i punti essenziali a fine di offrire l'ennesimo strumento agli uffici amministrativi perché ricominciasse appunto il dialogo con i gestori dei punti verde infanzia. Mi sembra di capire anche sentendo gli ultimi interventi in dichiarazione di voto che la delibera abbia comunque centrato il punto che sia stato centrato l'obiettivo del deliberato. Ho sentito parole importanti come legalità, decoro, ma soprattutto è stato capito, è stato accettata l'idea che questa delibera voglia garantire un bilanciamento comunque tra l'interesse pubblico e anche gli interessi legittimi naturalmente dei gestori dei punti verde infanzia. Questo attraverso un riordino della materia che è un tema importante e si dà avvio con questa delibera finalmente a un riordino non attenzione necessario, resosi necessario solo negli ultimi 4 anni, bensì negli ultimi 22 anni che non è poco. Quando c'è da fare delle critiche sono la prima, però insomma dobbiamo dire anche la verità, 22 anni sono tanti e diciamo naturalmente la delibera vuole garantire per arrivare a questi obiettivi un'omogeneità dell'azione amministrativa che viene finalmente iniziata attraverso l'accettazione di questo deliberato. Quindi ringrazio tutti per il contributo costruttivo alla delibera. Grazie.